Volontariato Informa Per maggiori informazioni si può consultare il testo della delibera sul sito www.regione.campania.it Volontariato Informa, notizie dal CSV Napoli È stato aperto a Napoli lo sportello contro lo stalking, il presidio antiviolenza sarà aperto tutti i giovedì dalle 15 alle 18 nella sede del sindacato Cisla di Napoli in via Medina. L'iniziativa è nata con l'entrata in vigore della legge anti-stalking il 23 febbraio scorso ed è stata presentata nel corso della tavola rotonda su stalking e violenza sulle donne che si è tenuta presso la Camera di Commercio di Napoli. Volontariato Informa, notizie dal CSV Napoli L'organizzazione internazionale UNICEF ricerca giovani volontari che lavorino attivamente presso i suoi uffici in varie parti del mondo tra cui Giordania, Bangladesh, Armenia, Indonesia, Bolivia, Mozambico per un'esperienza di volontariato sul campo della durata di circa 6 mesi. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.unicef.it Volontariato Informa, notizie dal CSV Napoli Si terrà domenica 11 aprile a partire dalle 10 e 30 presso la Villa Comunale di Napoli la passeggiata dei Cani Cittadini. L'iniziativa promossa dall'assessorato all'ambiente del Comune di Napoli ha lo scopo di sensibilizzare sulla necessità di aree verdi per la relazione libera tra cani affinché vi sia il loro pieno riconoscimento come soggetti integrati a pieno titolo nelle famiglie e nell'ambiente urbano. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo progettocanecittadinochiocciolagmail.com L'appuntamento con l'informazione del volontariato torna venerdì alla stessa ora. Volontariato Informa, una produzione di Radio CRC Targato Italia, in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Napoli.